Un posto al sole, anticipazioni 22-23 maggio, Raffaele rischia di perdere il suo lavoro. Le anticipazioni di un posto al sole del 22-23 maggio 2024 rivelano che Raffaele si ritroverà a rischiare di perdere il posto di lavoro. Dopo lo scontro con Roberto Ferri, verrà chiesta una riunione speciale di condominio, durante la quale si decideranno le sorti del portiere e verrà stabilito se potrà restare in servizio o meno. Nunzio intanto si renderà conto che la ripresa di Diana è ben più complicata del previsto, mentre Riccardo non riuscirà a nascondere i propri risentimenti nei confronti di Rossella. Roberto tiene sotto scacco Diego, ritorna Marina nel corso dell'appuntamento di mercoledì 22 maggio ci sarà un momento di vicinanza tra Claudia e Guido. I due si mostreranno sempre più affiatati, accentuando le paure di Mariella che non riuscirà a nascondere la sua gelosia. Raffaele, invece, dopo gli ultimi scontri che ci sono stati con Roberto si sentirà sempre più scoraggiato si lascerà andare a un profondo sconforto. Dopo un periodo di assenza intanto Marina tornerà a casa, la donna ha terminato la sua vacanza e, per il momento, è estranea ai fatti su quanto successo tra il suo compagno e lo storico portiere. Roberto intanto giocherà sporco ai danni di Diego farà pressioni su di lui riguardo alla faccenda del picciolo Tommaso, soprattutto dopo quanto è successo con suo papà. Raffaele rischia di perdere il lavoro, anticipazioni un posto al sole 23 maggio Le anticipazioni della puntata del 23 maggio Invece, raccontano che a Palazzo Palladini verrà indetta una riunione di condominio dopo quanto è accaduto tra Roberto e Raffaele. Il portiere rischia davvero grosso e, una delle conseguenze, potrebbe essere la perdita del posto di lavoro. Intanto la ripresa di Diana dopo il coma avverrà a passi lenti, Nunzio si renderà conto che la situazione è ben più seria del previsto, ma continuerà ad essere presente al suo fianco. Riccardo invece non riuscirà a nascondere il suo forte risentimento nei confronti di Rossella dopo la fine della loro relazione e la scelta della ragazza di stare con Nunzio. Rossella aveva scelto Nunzio negli episodi precedenti Rossella aveva deciso di smettere di nascondere i propri sentimenti come aveva fatto negli ultimi due mesi. Da qui era arrivata la sua decisione di affrontare Crovi e informarlo della sua intenzione di chiudere il loro rapporto, perché ormai aveva compreso di essersi innamorata di Nunzio. Procolpo per il medico che, scosso dalla notizia, era stato protagonista anche di un acceso scontro con il cuoco.